La provincia di Teramo si è fatta promotrice di un protocollo di intesa con alcune banche del territorio per consentire alle imprese che stanno lavorando per la ricostruzione di incassare subito i compensi senza attendere i tempi propri della rendicontazione e dei pagamenti da parte degli enti preposti alla gestione dell'emergenza. I primi a firmare il protocollo di intesa proposto dall'amministrazione provinciale di Teramo agli istituti di credito sono stati la BPR, la Popolare di Bari e la Banca di Credito Cooperativo di Castiglione e Pianella. Al mondo del credito è stato chiesto di aprire apposite linee di fido nella forma tecnica di anticipazioni fatture. La garanzia è rappresentata dal conferimento da parte della provincia di un mandato irrevocabile all'incasso di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della provincia stessa. Naturalmente tassi, spese e condizioni saranno oggetto di trattativa tra impresa e istituto mentre la provincia fornirà tutti i giustificativi del credito e la documentazione che attesta l'assenza di pignoramenti, sequestri o vincoli a qualsiasi titolo o gravanti sulla somma. Un bel segnale da parte delle banche, ha dichiarato il presidente Renzo Di Sabatino, che spera che altri istituti vogliano seguire questo esempio. L'accordo ratificato in provincia è immediatamente operativo.